è una gara, è una gara, è una gara, è una gara, mamma mia quanta gente, la vedo brutta, niente Bortolet è venuto sui motori, la sprint, di solito riserva sempre grande divertimento, soprattutto in prima curva Sì sì, vedo casini qui davanti, calma, oddio, 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 aiuto, no, oddio, vedo guai, vedo guai, oddio, oddio, che arriva lì dall'erba? No, no, ma tranquilli, lo so, non c'è spazio da nessuna parte, oddio, eh sì, ci si prova, ci si prova, attenzione, Vito, no, Vito, oddio, mamma mia quanto avete frenato qua, e Vito ha frenato la curva prima qua, capito dai, ecco qua appena dopo, lunghi tutti, tutti lunghi, aiuto, ma poi si vedono delle fumate da panico, sono, sì sì, vedo un cazzo, ho quasi distrutto il spiego, grazie, però per fortuna non mi hai toccato, no, no, zero, zero, calma, oh, oh, qualcuno ha sbagliato strada, la perde, attenzione, rischio, contatto, ruota, ruota, la vera gialla che succede? Adesso sei nella top ten, continua così, svenimenti, oddio, forgotten, combatte con qualcun altro, non ho visto chi sta a fare capozzate, sto in zero, ma chi è? Attenzione, va a sistemare il prato? Mamma mia. Hai visto incroci pericolosi, Amos? Mamma mamma. Attenzione, Forky e Diego qui dietro, andiamo a prendere quelli da davanti, forza. C'è Xanderone lì, con Mario, il bot sta andando forte, vedo, davanti. Chi è, Andrea? Sì. Oddio, Yuri. Anche 40, oh. Mamma mia. Ti ha fatto uno scatto all'indietro il lag, me sa. Che non stai a laggare, proprio un attimo, ti ha fatto uno scatto all'indietro. Mamma, quanto è difficile tra sprint, ma vanno forte davanti, via. Problemi, 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 problemi. Stai, un giro veloce della sprint per Smangri. Eh, eh. IRS ora attivo. Intanto riprendiamo Xanderone. Cliente scomodo qua davanti. Eh sì, Yuri, non tira dentro la mazza ferrata se ce l'ha. La sfrutta tutta. Insomma, cambia casco, non so, mette quello dell'armatura. Ecco da Occhi. Tanto vanno. Mi arrivo sotto nel momento sbagliato, porca Eva. Non so più Earth. Attenzione. Uh, resta dentro. Tanto qua si griglia. Quanto affiudo che c'ero io dentro, Yuri Maron? In sicure. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Mamma mia. Ti sbagliarei lo spettetto, ma? Sì, 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 infatti ho fregato tardissimo, l'ho dovuto inchiodare, va bene, va bene, va bene. Amos, dai, 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 dai dai, 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 dai dai, 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 dai dai dai, dai 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 Eh sì, ma l'ultima volta che siamo stati vicini ti ho ammazzato Marco, sbinala No, 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 io non ho fatto niente Ah, non era Yuri Ah, Ron, dove sei stato allora? Ma attenzione Eh, che è stato allora? Ma poi è come prima Eh, come ti ho fatto a tirarmi così? Ah, Ron, comunque ti avevo detto al giro 6 di fallo fuori C'è uno più accordi, poi ti fa come te pare La seconda volta te lascio un po' off-fit Eh, raga, c'è il DRS che scappa via Xanderone Lì c'è un taglio della chicane, netto Da parte di una Ferrari e Andrea Eh, eravamo in due 6 all'ultimo giro Oddio Molto vicino, un Fulso fuori dalla sessione Intanto c'è Diego qua Eh, sì L'avvocato si presenta Documenti alla mano Per filmare un atto Di scambio posizioni Però attenzione, perché qua c'è il mischione Può succedere ancora molto Eccolo qua, incrocia E passa la Ferrari E va bene Maronna Adesso ho staccato una su Xander E si passa nell'ultimo delle cline Cazzo, mi hai bloccato tutto il gioco Oddio Mamma mia, non ti sapiano Andrea con lui Andrea? Porca troia Sì Ha svitato un bulone da rota No, ma mi ha preso L'ho sentito Però per fortuna Non Niente di grave Eh, non è che ti abbiamo inchiodato C'è una curva Non si può fare in pieno Il tornando Di solito si tende a fregare In quel punto Insomma, diciamo Quinto Con Xander che la sbilla all'ultimo Dai Non c'ho il force fit Oh lei Pazzi lì Oddio Mamma mia Che inchiodatona di Amos No Problemi? Eh No Attenzione Amos è un po' lungo Proprio all'interno Porca troia Quanto cazzo è sottostanzante così Sì, troppo È ingirabile Porca muttana Olè Grazie Diego Eh, non frena Frenava Che devo fa? Ok Stava a rote bloccata Grazie Sdiffiamo Se è il momento di andarsene Sì Direi che Dobbiamo andare via Sì ragazzi Attenti Col BP Eccetera Botta di culo Ho voluto Che non ho sfacciato La macchina Meno male Meno male Perché sennò Eravamo alle solite Dura sempre meno La mia gara Non mi fa ridere però Manco più un giro Avevo detto un giro Manco quello Tanto ci abbiamo davanti Mario Il blef Dice che non c'è E poi all'ultimo si presenta Dopo che si è allenato Tutta la settimana E tutti ci chiediamo Come mai si è allenato La guarda che fatica A me già mi scivola tutto Andavo benissimo Mamma mia Guarda Dzeko Dzeko ma usci qualche aiuto tu? Sì Ah ok Ok Ah va perfetto C'hai proprio il Boeing 737 Fa da solo Andrea ci ha vinto una gara Perciò va bene Andrea ci ha vinto una gara in pausa Un fenomeno Penso a lui avvia la gara Poi si è pian fumetto Carcola Noi eriamo tutti sudati Alla fine lui sta una favola Non capivamo perché Eh Amos è un po' di Tokyo Drift Però ci sta Ci piace Ci piace Possiamo usare il DRS Oh ti vedo un po' sgommare Ma non lo so Magari il netcode No 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 Non lo è Ah ok Sei tu che vai di traverso Perfetto Sì sì Super motardiamo Merda Eh no L'ho perso Sì esatto Cito che ti metto anche il cartello davanti Attento Iron Ad Iron che piacciono gli Alfa Tau Ma guarda Alla fine della gara Gliela regalo Basta con un piccoglione adesso Guarda Che ho fatto Che è un po' più affascinato Dio 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 Mamma mia Yuri Grazie Timo Andiamo 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 Oddio Dio 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 D sta a far passo del gambero a me mi scivola tutto siamo sbangati mamma mia corregge Amos ancora lungo Yuri immagino lo sono io col volante beh cazzo siamo un quartetto pericoloso c'è anche Marione ah ma io guardavo senta col freno a mano Yuri no 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 non switch position un cazzo perché se vado io davanti adesso mi schianto te lo dico ecco la devo smacchia a destra e ho capito tu se devi scegliere va addosso a lui però cioè non tutti e due lunghissimi oddio Sergio uno in mezzo eh aspettatemi pure a me va attenzione Alec ci manchi solo te guarda arrivo arrivo qui già mi hanno cercato di ammazzare due volte più la macchina che ci mette del suo manco io che mi metto al fianco Diego se no è una gara esatto non è certificata eh che cazzo no ma che l'ho tagliata eh lungo 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 ti giuro non mi entra lì la macchina ecco la destra dovrei frenare prima ma c'ho paura di Dzeko che sento proprio il calore del fiato sul culo che è un'immagine molto poetica tra parentesi l'ho aperto dopo eh perché la pista è bella però occhio eh Diego perché finirà molto male sta cosa e io lo so prima eh ma che giro mai niente era questo era questo vai si ma non su di lei oh ah c'ha ragione cazzo vabbè tu colpisci la prima arfatoria che vedi non fa niente no 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 I want to switch position I want to switch here posso da ricostruire qua ma no no raga che fatica mamma mia eh infatti guarda ma vedrete scivola tantissimo mamma mia tanta trazione ha mosso però cazzo oh non ci credo che è successo è stato un incidente con detriti sbassi fortunatamente gli addetti hanno rimosso tutto il tempo allora o perdo due ore o prendo la penalità penalità attenzione vai vai diego sì ma so c'è il terrore del delta qualche anno mi so parteggiato eh io so più 4 e 5 quindi stiamo abbondanti eh io so più 3 e 6 in effetti manchina dei box eh manchina dei box per mettere bianchi lui ci prova lui ci prova c'è il delta Mario attenti ok ok rallenta rallenta delta negativo delta 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 freno 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 rallenta eccolo là oh fa scherzi delta eh il deltone e poi potrebbero implementare tranquillamente un indicatore infatti ma fanculo occhio ok che rischio che rischio abbiamo preso tutti si perché alla fine si è accorciato tantissimo ha chiuso all'ultimo eh ma chiuso all'ultimo mamma mia che brivido meno male tutto bene abbiamo tolto GECO dal DRS via 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 cioè siamo stati l'unici che siamo riusciti a perdere qualcosa che aveva vinto a sapere di carro praticamente siamo pure arrivati pelo pelo tra l'altro beh io so che erai apposta mannaggia la miseria stiamo a un secondo la il secondo è otto stiamo a 6 secondi adesso andiamo andiamo bene 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 ma che sosti fai o qua a me non mi gira proprio clamoroso è una merda sta cazzo meglio il DAF assolutamente assetto sicuramente superiore sì ecco mochiziamo iniziare il il colloquio tecnico tra i box solo quelli sbagliati ho messo un piccolo errore qui vabbè tu sei campion non lo puoi fare vabbè ui 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 corregge 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 distacco dal tuo compagno di squadra e 7,7 secondi eh si sono riattaccati molto vicino male questa molto male oh mi amos frena a mano e via ma porca troia ma perché non riesco a scurbar io non riesco Diego non se ne vada mi aspetti no si sbrighi mi metta fretta almeno per un po' di compagnia basta che resta fuori dal DRS sennò si avvicina troppo poi oh non ce la faccio eh ma a me serve il DRS restare al pasto sennò sono più lento non simuli Ale che ha vinto tutto e fino adesso eh guarda c'ero pure io eh non è che è proprio friante ma tu amos che botta vai 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 qui ci posizionatezione no ha preso un muro clamoroso più che altro virtual safety car dai muoviamo un altro 20 secondi chi è stato? virtual safety car in uso virtual safety car devi mantenere positivo il delta rallenta mantieni un delta positivo di quelli belli che voleva Diego Amos eh un'altra volta ho visto ho visto wow eh comunque safety no ma un paio di virtual subito ma poi cioè se hai ritirato qualcuno non lo so non capisco nessuno parla troppo veloce nessuno si si espone mamma mia ma è che difficile il regime di virtual safety car sta per terminare bandiera verde in arrivo mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde ma vaffanculo ho perso un'ora e mezzo e ho piaciuto lo stesso la penalità oh che combinate lì dietro attenzione ho fatto un'entrata che sono arrivato vabbè io vado drive through addirittura no drive through per Ale no che hai fatto Ale ma no io pensavo che sarebbe così perché te era ripartita nel momento sbagliato no no ma ma che succede vedi quanto stavo distante da te quindi ho guadagnato 10 ore no ma di fatti eri giusto dalla chat mi dicono 37 millesimi e quindi mi danno un drive through onesto ah stigate allora te lo chiedi comunque l'ultima volta questa cosa della virtual l'ultima volta che hai preso drive through comunque hai vintato la gara Ale se ti può essere anche perché uscilla tantissimo eh cioè il delta è irregolarissimo no perché attenzione è entrato in pit cioè i pit con i drive through e ci ha dato da dire quindi Xanderone non ti resta che dominare ma in gara ci siamo tutti ancora ormai eh forse i zero mi sa che stanno fuori tutti e due eh no solo la mezza macchina deve morre mezzo volante mamma mia che botte di dietro sto drive through di merda è l'unica andiamo dalla quinta dove arriviamo benissimo sto d'addio è inutile proprio che ci provi ma poi ste tattichette psicologiche cioè fate proprio un altro livello qui un altro po' non si ricordiamo molto quale api stando domocore oh porca Eva beh non gira tu dove sei Sergio? dove sei tu? dietro a me tre secondi ha già fatto il pit ah beh un po' arriva in fondo però eh c'hai bianche oh cazzo ha sfruttato a suo favore le due safety car porca troia eh però comunque le bianche insomma le bianche scivolano tanto sì no no deve essere comunque conservativo diciamo poi c'è sempre il muro di campioni capi ne io le bianche in due di tiri stavo iniziando a staccarti il 5% ecco non gira più non gira più mancano 22 giri sono un po' troppi è andata un po' di merdi devo capire quando montare sta cazzo di bianca è presto ancora no 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 vinto a safety car odio profondo eh ricordiamo eh raga ma undercut queste bianche fanno schifo più delle gialle raga calcolate che è che sta male lì che sta male chi è che sta male in che senso c'è l'ambulanza per favore conosco tanta gente che sta male però non è qui comunque è no c'è una macchina la nostra studi di casa non lo so non lo so ha quasi rotto i palle uh chi è qua Marco oddio non gira più Amos ma tu sei fermato non gira più non gira più attenzione che c'è sergione dietro che sta per diventare sergione davanti così a occhio bandiera verde bandiera gialla no Marco è andato anche lui le vittime del Canada non è mai recuperabile no infatti sempre crederci niente sempre crederci quitta ah non era lui istruzioni poco chiare intanto box per Iron Jack invece il buon Mario segue me due vecchi amici che si ritrovano in quanto gira adesso eh non lo so poco eh no eh non lo so adesso c'ho il migliore ma il migliore non è sicuramente che adesso non te lo dico attenzione sto vicino a Dale eh io devo fare ancora il pit praticamente ah ok ho fatto solo il drag through Yuri hai rotto qualcosa? no no ok sto lagando anche a me sta piovendo adesso pure qua sta a far diluio ma come sta piovendo ma effettivamente dovrebbe arrivare quella tormenta brutta quella roba brutta adesso sì sì una bella bufera bene due tre giorni c'è quell'aria calda che oia pana e sì pure a me è vero laghi è vero Yurica stavano 31 gradi oggi no a 8 prende dove vado che è qua? è vero laghi è vero laghi che è passato attraverso Yuri eh perché ho messo in pausa avete chiuso la live perché ah ma mi stai mettendo altro dunque vedo quelli da F1 dimenticata ce l'hanno proprio come tattica non so quanto stai girando mettono in pausa mettono in pausa e fanno guidarsi più eh ma adesso mi passano ecco Amos Smangri ovviamente aveva approfittato undercut di Iron Jack è riuscito arriva anche Mario mi hanno distrutto ah l'avevo ti è frenato porca eh devo frenare ma pure Yuri ma che cazzo ma che fai fatto questo è un'altra parte per fortuna che non ci siamo ammazzati e ho dovuto frenare un po' di più perché stavo un po' all'interno quindi me ne so accorto eh non stando in traiettoria vabbè vabbè meno male che non siamo morti cioè tu tecnicamente c'hai il diritto di frenare quanto ti pare stanno davanti che io non mi aspettavo ma vedi io ti sorprendo intanto Sam fa traiettorie alternative in modalità taglia erba cerca di metterci in confusione e mi sono scordato di levare il pit limiter raga porca troia no mezzo giro no ma tutta la pit lane in uscita potete toglierlo prima no eh mi sono proprio stavo guardando voi che passavate non ho visto quando è arrivato il momento Sam è impossibile stare io vicino fare una cavalletta ma ma eh voluto tu a moda è una scatena ma potresti venire a viverci sì 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 vi chiederò vi chiederò agli altri come stanno le gomme che sono sicuramente mi assieme delle mie e delle tue tanto aerogeco non mi viene casuale prova solo a prendermi e passarmi lo butto fuori ma giusto perché non sono vendicativo io eh ma vedete prima però ci stanno non mi fa vedere se stai ribartando la situazione aspetta che la stessa Sam chiedevi a me un pochino poco poco sì una bottarellina amichevole diciamo Diego prendi un po' di vantaggio che devi entrare in box ok o prendi vantaggio o ti metti in te non lo so faccia lei eh l'opzione in cui mi scrivi diciamo l'abbiamo proprio eliminata no no nel senso ma hanno rovinato perché mi avete passato tutti ma raga te ci hai vinto la tenticarda e lo so meglio anzi anzi in realtà se viene non mi fa male io c'è la finestra aperta tra poco inizierete a sentire il rumore tipo quando uno va sott'acqua sto partito con le gialle ragazzi solo che diventano inutilizzabili dopo qualche metro no ma più che altro chi si è fermato alla prima virtù al tipo smangri che non può arrivare alla fine raga c'è porca troia sta bleffa eh te lo dico dice no 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 invece si eh mi sono fermato alla seconda quindi anzi dopo la seconda la finita eh quindi te vai bene ma pure Mario e Ronge come hanno guadagnato tantissimo io sono entrato penso all'ottavo non so io ma sono molto no no erano da l'altro devo guidare il più giro possibile se no la veniamo qua facciamo un po' con le mani Mario io aspetto la solita sbinnata si si adelevata 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 funziona andreas è andato a fare una doccia praticamente nel frattempo mentre la sua gara la sua macchina fa punti stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della che ne frega dell'auto che segui sono scappati con gli davanti un po troppo presso pena se vedi e qua perché cartelli i pannelli sono fucsia viola che aveva ragione diego ho preso un giro io ho detto che erano viola ma dimmi che era l'hdr che era il monitor l'occhio e gli occhiali da vista no aia è saltata la corrente raga a chi a me un attimo è saltata la corrente si è spento tutto no o dio minchia andrea no sta in pausa sta in pausa si è ripreso aspetta si è ripreso un altro come si fa come si fa qui è uscita la pausa oh mi sta a guadagnare pure dei decimi attenzione ma se fa così mi sa che a breve si arterà tanto quei infami di sempre mi ha superato te metti approfitti della mia corrente che se ne va bello che non si è riacceso il secondo monitor però questo non è un buon segno dovrebbe essere scomodo speriamo che non si è riacceso così perché non glie va oh dai porca troia però e com'è possibile da primi a quinto così affanculo comunque che sfiga che c'ho raga cioè come succedono tutto a me non so se sto ancora in live sto ancora in live raga attenzione attenzione più torse di garba un'altra volta oh coglioni ai 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 ah no sto ancora in live ok ma se metto in pausa mi incula lo stesso? no non credo lo terrà eh ma se metti in pausa perché pare molto lento si ecco perché mi hai seguito Aerofio dei coglioni? prego un cazzo mio tanto adesso devo mantenere il delta la virtual safety car sta per finire tieni il ritmo fino alla bandiera vera la virtual safety car sta per finire attendi la bandiera vera oh porca troia che schicca era cacchilato chi è sposo? era una bomba qua vicino a casa mia oh mio dio ma che è oh tutto a posto direi? si si per il momento si madonna che pigna ma scusate stavo a un secondo e mezzo no vabbè non mi fermo mi squalifica me ne so attestarti no Ale si squalifica sicuro fermati a un secondo e mezzo più lento no hai risaltato un'altra volta raga qui mi stavo a morire mi sta che sta succedendo? ti ha dato penalità prima ancora che finisse la virtual madonna si si a piacere perché ha visto che come mai poi? per la virtual? dalla direzione che hanno arrivato da la vanamos recuperò un botto eh ma io ho una paura che mi brucia tutta casa no Sergio non si è fermato non si è fermato no Sergio non poteva perché si è fatto tu dopo io ero proprio all'ultima curva ah ok il segreto ragazzi poi ho deciso di chiudere tutto ma io spero che le gomme di Sergio esplodano però perché sennò non c'ha senso eh capito io ho il 15 che mi do l'orto che sono che c'è dai quelli che non c'ho fatto niente mi perdo mi perdo la cura o mi perdo via perché è la buona mi perdiamo le due io ho sta per giocarsi tutta la postazione orca io davvero io ho una paura che mi si spaccia qualcosa ma tu non c'hai UPS io l'altra volta quando ero col marzone mi hai dato via tutto ma continuavo a giocare eh difatti io li devo montare cioè li devo comprare eh io l'ho preso l'anno scorso quando d'estate mi saltava ogni mezz'ora è una sicurezza madonna quanto vanno forte qua dietro per una volta che mi va di culo una seppi eh no no ma infatti non mi non mi dica te non mi dico per cazzo Sergio non voi io lo dico tantissimo per per spagna eh e io sta gara cazzo due drive through a gradi fanculo per secondo poi proprio gramoroso il distacco dalla vettura davanti è 3,9 secondi vai amo sì non ne ho proprio inutile che ti rallento 5 decimi a giro e poi cazzo almeno mi vede sta penalità 3,5 secondi 2,3 fuco la troia cosa? non hai visto no ne ho per fare il mio riflesso dicevo che non era abituato al TRS di velocità di hertz fuori moria pure gecko bravo infatti eh ma tanto del guidato adesso mi va via con quella gomma lì mangrì tu fai lì mangrì il miracolo quello che vuoi fare è andare in conto così vero no che bait secondo me esplode veramente beh è infattibile ok distanza dal compagno di scuderia 31,4 secondi no ma non ce la faccio a stare con te devo gestire e basta perché non sei rientrato eh no perché l'avevo messa da poco e poi avevo già perso troppe posizioni onestamente ho messo meglio così che se fossi rientrato non è smangri potessi trovarla mamma mia attenzione Iron per passo facile per lui passa gomma fresca media e va eh smangri continua la prova ragazzi è un fenomeno è ovvio che è più uno la ultima è uno dei piloti più forti in politica no in politica non si attenzione non l'ha potuto mai dimostrare veramente poverino sì raga sono leggermente deconcentrato perché sto a pensare il miglior giro adesso è uno restartro rincoglionito mi dispiace per ora non ho queste informazioni sto a pensare che c'ho paura che mi scocciano furmi in casa forse da tirare qualche bestemmione per come al solito la sfiga che c'ho in queste gare stasera non andavamo male ma prenderemo due puntini miserabili praticamente fantastico grande bot vai comunque 35 giri ma c'è ancora a bordo c'è ancora a bordo madonna mario mi mangia gara tutta indifesa così abbiamo un distacco dalla vettura davanti di 8,4 secondi chi si sta concentrando come l'animale come scivolano la corrente c'è ancora ma sto girando la capoccia girando senza hertz della corrente immagino no sto girando col terrore che mentre a un furmine mi scoccia il computer grande dio ok questo giro vero a prossimo è iuri e finirà eros spero ah ti ti spero non era sempre il bastardo io adesso l'ho capito è ridrack che bordino ho capito mamma mia mario devo passarti prima devo passarti è andato decisamente lenti invece no fortunatamente con un occhio solo ma si ti vedo bene esatto però è vero cazzo difficilissimo mamma mia mamma mia che strategia de mer ma perché perché ma ma quasi quasi lo faccio io box 11 secondi yuri 23 diego ora io nelle condizioni in cui sto non te li più sicuro perché la macchina mia è inguidabile ok adesso vediamo iron da posto porto vediamo dai mi sono fermato rossa e ma non potevo fare niente con quella bianca lì occhio al distacco dall'auto di fronte 7,3 secondi c'è qualcuno che porta la bandiera bandiera gialla bandiera gialla ma troppo sì ma chi è parcheggiato sul rettilineo corto l'occhio ma al centro del rettilineo si è fermato quella è una SEV attenzione ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro si questo si aspetta la perdita di aderenza da ora che hanno perso aderenza Alex la guerra è finita mamma mia è fatti eh eh forse è un botto che lì si è staccata la connessione può essere ma là davanti come sono le posizioni che io non ne vedo ok 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 no era giusto per sapere perché non li vedevo sono troppo indietro ma non è vero dai 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 ah lo so ti vedo ti ho recuperato veramente tutto dipende Aaron quanto versa Ho preso 3 secondi Vabbè potrebbero non cambiare molto Penso che non cambiano di fatti così alti Dimmi Alon Ok 3 secondi da Yuri è andato E due Aston fuori Porca puttana Ma poi due Aston fuori e Mario Beh ingegnere non corre Mario sta guidà No ma che sera d'attacco Ah Come Hulk è eliminato Avete svegliato Ok questo è il distacco dall'auto di fronte 12,7 secondi No Mazze non c'è perché sta in Marocco ragazzi Ma come? Attenzione Ultimo giro dai ultimo giro Abbiamo carburante a sufficienza Comunque ragazzi Sergio te hai fatto 28 giri con la gomma Io avevo detto che non rientrava Allora Ho detto pure io eh Però la capitina è arrivato a 2 quelle virtual del merda quelle virtual di merda e virtual a me mi hanno dato ben due drive pro ma dovevo sfruttarla meglio potevamo far rimanere 12 con amos sì solo una quindicina di virtual del merda